5. Ma è bellissima! Venne un signore novantenne per vivere nella casa di riposo di cui sono la direttrice. Gli dissi, adesso l'accompagno nella stanza che le è stata assegnata, credo che le piacerà. Ma è bellissima, disse subito il signore, ci starò senz'altro bene. Ma come fa a saperlo se non l'ha ancora vista? È bellissima, perché ho già deciso che è bellissima, e allora per me sarà veramente bellissima. Commento A mano a mano che l'individuo evolve, si rende conto che la sua vita è l'esatta proiezione del suo intimo e quindi l'accoglie come se stesso. Grazie. Grazie a tutti.